Ci troviamo all'Aives, in provincia di Bolzano, dove ieri sera si è svolto l'incontro con la storia della Citroën DS. Ospite di questa giornata è il nostro amico Federico Livi, appassionato del marchio Citroën, che ha una lunga storia come possessore di vetture del Dublé Chevron. Lascio a lui la parola per raccontarci un po' della sua avventura con il marchio Citroën. La mia storia è iniziata con un Ami 6, ero molto piccolo e facevo ancora il passeggero a quei tempi. Quella macchina per questioni lavorative l'abbiamo portata in Nigeria e lì l'abbiamo lasciata. È una macchina che ha lasciato un ricordo indelebile nella mia memoria, la chiamavamo Farfalla perché proprio così svolazzava sulla strada. È una macchina che dalle mille prestazioni, mi ricordo ancora che facevamo dei picnic e smontavamo i sedili. Abbiamo avuto una GS, oltretutto quella comprata di seconda mano da un collega di papà che diceva che ci si addormentava sopra, talmente era così tranquilla nella sua guida. Abbiamo avuto GSA, CX, CX Pallas e poi siamo passati quelle più moderne, dal Visa, BX. L'abbiamo veramente passate tantissime. Adesso abbiamo una C3 Pluriel, e l'ultima arrivata in casa è una Nemo. Così vi ho portato dei modellini delle macchine che abbiamo posseduto. Queste sono fatte in maniera artigianale, sembra un po' il cross. Questa ce l'abbiamo ancora, ed è la Pluriel C3 tuttora funzionante. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo la CX, una BX, il Meari, poi la mitica Mi 6. L'altro ha la Visa. Questa in realtà è la mia prima macchina, siamo in Piazza Salotto a Pescara. Dopodiché ho trovato questa foto della Mi 6 in Nigeria. Si può vedere le capanne, tutta la popolazione locale. Ed è una macchina che alla fine abbiamo venduto a un prezzo superiore del costo d'acquisto. Queste sono altre immagini della Mi 6 sempre in Nigeria, sempre in giro a fare picnic. Poi abbiamo il Meari sul lago di Garda, sul traghetto sul lago di Garda. Eccolo qua. le aree che ancora possediamo. Qua ho dei frammenti di CX, la prima CX che abbiamo avuto. Questa invece è un'altra CX con la quale ho fatto il servizio militare ed era la macchina più bella del battaglione. Qua siamo rientro da una licenza, altri commilitoni, la GSA, sempre la GSA, la BX e sono alcune foto riprese. Questa è una X tra le Trabant in Germania dell'Est. E qua da lontanissimo c'è una ZX. Eccola qua. A distanza di 40 anni tutta la mia famiglia viaggia ancora in Citroen. C'è stato un momento che ne abbiamo avuto addirittura cinque insieme e a tutt'oggi la Citroen mi accompagna al lavoro tutti i giorni. Detto questo, visto che piove vi saluterei. Grazie, arrivederci. Grazie.